Salve a tutti, in questo video vorrei parlare della decisione del governo Meloni di entrare in guerra con Iuti nel Mar Rosso. Più in particolare vorrei spiegare che la decisione del governo Meloni di entrare in guerra con Iuti nel Mar Rosso rappresenta un punto di svolta nella storia della politica estera dell'Italia repubblicana, giacché mai era avvenuto prima che un governo italiano prendesse parte al conflitto israelo-palestinese dalla parte degli israeliani contro i palestinesi. Per poter documentare questa mia tesi avrò bisogno di tempo, soprattutto ho bisogno di procedere per gradi. Come sempre leggerò un articolo che ho dedicato a questo argomento pubblicato su sicurezza internazionale.com, il sito di cui sono direttore, colgo l'occasione anche per una comunicazione di servizio, incontrerò tutti gli abbonati di sicurezza internazionale.com il 31 gennaio dalle 19 alle 20 per la consueta diretta mensile e colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a sicurezza internazionale.com perché noi ci basiamo esclusivamente sugli abbonamenti, non vogliamo né pubblicità né finanziamenti esterni per essere assolutamente liberi e indipendenti. Sicurezza internazionale.com è il primo sito in Italia per numero di articoli sulla politica internazionale, ne pubblichiamo oltre 400 al mese. Prima di leggere l'articolo che ho dedicato alla decisione del governo Meloni di entrare in guerra con gli uti nel Mar Rosso, devo ricostruire il contesto e in particolare devo ricostruire la catena causale che ci ha portato fin qui. Devo ricostruire i nessi di causa-effetto che hanno spinto l'Italia a partecipare per la prima volta al conflitto israelo-palestinese dalla parte degli israeliani contro i palestinesi. I nessi fondamentali sono quattro. Decenni di politiche inumane di Israele e dell'Occidente nei territori palestinesi hanno causato un grande odio nei confronti di Israele. Questo grande odio nei confronti di Israele ha causato l'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023. L'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 ha causato il genocidio a Gaza da parte di Israele. Il genocidio a Gaza da parte di Israele ha causato il lancio di missili contro Israele, contro navi israeliane e contro navi americane da parte degli uti nello Yemen. In un altro mio video, sia nell'intervista, nella diretta, nel dialogo con Alessandro di Battista, sia in un video che trovate su questo canale o pubblicato la settimana scorsa, spiego quale sia la strategia degli uti per fare pressioni sull'Occidente affinché l'Occidente faccia pressioni su Israele affinché Israele la smetta di massacrare i palestinesi a Gaza. Quindi non ritorno sull'argomento perché è complesso e per motivi di sintesi devo per forza arrivare al punto. Inizierò quindi con la lettura dell'articolo e questa è la prima parte del video. Nella seconda parte del video farò una serie di commenti a quello che sta accadendo, soprattutto la seconda parte del video è ricca di contenuti perché spiegherò che cosa accada, che cosa stia accadendo, come funzioni lo stretto di Hormuz e lo stretto di Babel Mandeb. Senza una corretta comprensione di quello che accade nello stretto di Hormuz e nello stretto di Babel Mandeb non si riesce a comprendere la portata della decisione del governo Meloni di entrare in guerra con iuti nel Mar Rosso. Inizio dalla lettura dell'articolo. L'articolo su sicurezza internazionale.com si intitola l'Italia entra in guerra con lo Yemen, ma nessuno lo spiega. Quindi mi scusi in anticipo per eventuali refusi o qualunque tipo di errore, svista o distrazione, ma come sapete questi video sono completamente improvvisati, parlo a braccio, non sono minimamente preparati e quindi potrebbe capitarmi di sbagliare qualcosa, soprattutto quando si tratta di un video così complesso dove è necessario documentare una tesi totalmente controcorrente perché come voi sapete i nostri media, i media italiani, essendo corrotti dalla testa ai piedi, funzionando come nelle dittature, cioè essendo completamente compenetrati, i media italiani essendo completamente compenetrati dal potere politico militare, stanno rappresentando i fatti, cioè stanno rappresentando la mossa del governo Meloni in maniera assolutamente distorta. L'articolo si intitola l'Italia entra in guerra con lo Yemen, ma nessuno lo spiega. L'Italia deve entrare in guerra con lo Yemen, degliuti, ma il governo Meloni non può dirlo. Quindi il ministro Tajani ricorre alla solita strategia manipolatoria che consiste nel prendere parte a una guerra con la scusa della missione di pace. Il trucco retorico per nascondere la realtà politica è semplice e può essere ricostruito in tre fasi. Nella fase numero uno le politiche iperaggressive dell'Occidente causano una guerra. Ad esempio decenni di politiche occidentali disumane nei territori dei palestinesi hanno causato l'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 e il conseguente genocidio a Gaza per mano di Israele. Nella fase numero due gli Stati Uniti chiedono all'Italia di dare un contributo militare alla nuova guerra causata dalla violazione del diritto internazionale da parte dell'Occidente. Penso ad esempio alla guerra illegale dell'Occidente contro la Serbia del 1999, alla guerra illegale dell'Occidente contro l'Iraq nel 2003 e alla guerra illegale dell'Occidente contro la Libia del 2011. Nella terza fase l'Italia annuncia di inviare i propri soldati. Il ministro degli esteri di turno assicura puntualmente che i soldati italiani spareranno soltanto se attaccati. In questo caso il governo Meloni lavora per inviare i soldati italiani nel Mar Rosso, un teatro di guerra dove i missili volano all'impazzata. Ne consegue che le probabilità che i soldati italiani vengano attaccati o che si ritrovino in mezzo al fuoco sono alte. Logica vuole che siano alte anche le probabilità che debbano sparare e ammazzare gli uti. L'Italia è venuta a trovarsi nella condizione di dover violare continuamente la propria costituzione quando il comunismo è crollato, offrendo all'Occidente la possibilità di acquisire quote sempre più grandi di potere mondiale per mancanza di opposizione. Dal 1989 a oggi l'Occidente ha condotto numerose guerre illegali d'aggressione. La NATO si è espansa a dismisura arrivando alle porte della Russia e Israele ha rubato la terra ai palestinesi aumentando gli insediamenti illegali vertiginosamente. L'Occidente ha destabilizzato numerose aree geografiche, Medio Oriente in primis, per poi accusare l'Iran di destabilizzare il sistema internazionale. Tutto questo mentre gli Stati Uniti destabilizzavano anche la Siria, finanziando la guerra civile per rovesciare Bashar al-Assad e sostituirlo con un presidente filo americano con il programma segreto della CIA Timber Sikamor. Timber Sikamor è stato uno dei programmi più costosi della CIA per armare e addestrare i ribelli di un paese straniero dai tempi in cui la CIA armava i mujahideen in Afghanistan negli anni 80, come spiega il New York Times. E' di oggi la notizia che Biden sta programmando una guerra prolungata contro gli UTI, perché i bombardamenti anglo-americani non hanno nemmeno sfiorato le capacità offensive degli UTI nel Mar rosso, come si ricava anche dalle recenti dichiarazioni di Biden. Mentre vi parlo, Biden e gli Stati Uniti d'Inghilterra stanno nuovamente bombardando lo Yemen. Ovviamente i media italiani non chiamano guerra la guerra, devono trovare altre locuzioni, altrimenti diventerebbe chiara la violazione dell'articolo 11 della Costituzione italiana che proibisce ai governi italiani di dirimere le controversie internazionali con la guerra. Quindi, per carità, nessuno dica che gli Stati Uniti combattono una guerra contro lo Yemen degli UTI. I media italiani devono dire che gli Stati Uniti bombardano lo Yemen come se nella guerra cadessero fiori anziché bombe. Gli Stati Uniti bombardano lo Yemen, l'Inghilterra e gli Stati Uniti stanno bombardando lo Yemen perché nel Mar Rosso c'è una guerra. La formula corretta diventa questa. Gli Stati Uniti danno e ricevono bombe nel Mar Rosso. Il punto fondamentale che cerchio di chiarire è questo. I media italiani sono completamente corrotti, così come negavano che la Nato avesse avuto il benché minimo ruolo nella crisi tra l'Ucraina e la Russia, oggi negano che nel Mar Rosso ci sia una guerra. Ma l'evidenza empirica, l'osservazione scientifica, che è un'osservazione non ideologicamente orientata e non emotivamente influenzata, dice inequivocabilmente che nel Mar Rosso c'è una guerra. Il solito trucco retorico, i soldati italiani andranno in pace in una guerra. I soldati italiani andrebbero in pace in un mare pieno di nemici armati fino ai denti. Il 19 gennaio Tajani ha detto, l'Italia è promotrice della nuova iniziativa sul Mar Rosso di cui parlerò lunedì 21 gennaio al Consiglio Unione Europea. Quindi pensate, l'Italia addirittura promotrice di questa azione militare contro iuti, a fianco degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, promotrice. E Tajani ne va fiero. Continua Tajani, pensiamo a una missione militare, quindi non a una missione di pace, pensiamo a una missione militare con partecipazione anche di paesi non Unione Europea. Penso alla Norvegia per allargare la competenza di quella che c'è già fino al canale di Suez. No, caro ministro, i Tajani. Lei non sta lavorando per ampliare la competenza della missione che c'è già fino al canale di Suez. Lei sta lavorando per ampliare la guerra. Lei sta lavorando per l'internazionalizzazione della guerra nel Mar Rosso a difesa del genocidio a Gaza. Perché lei, caro ministro Tajani, mi deve spiegare come sia possibile che l'Italia non appoggi il Sudafrica nella causa contro Israele per genocidio davanti al Tribunale di Giustizia Internazionale dell'ONU e poi si mobilita così rapidamente per intervenire militarmente nel Mar Rosso. Come mai tutta questa solerzia per intervenire militarmente nella guerra del Mar Rosso e poi immobilismo da parte sua ministro Tajani con riferimento al genocidio di Israele a Gaza? E il ministro Tajani è intervenuto immediatamente non appena iuti hanno posto a rischio i guadagni dell'Occidente. Però il ministro Tajani non ha mosso un dito per fare pressioni su Israele, non ha preso nessuna misura punitiva contro Israele per avere massacrato 25.000 civili a Gaza, per avere smembrato, massacrato, fatto saltare in aria 12.000 bambini musulmani a Gaza. E come mai ministro Tajani? Lei è così solerte nell'intervenire militarmente nel Mar Rosso contro iuti? E poi così immobile nell'intervenire in difesa dei bambini palestinesi a Gaza che vengono massacrati tutti i giorni? Eh, sarebbe interessante avere una risposta. E perché nessuno fa queste domande a Tajani in televisione? E la risposta è semplice. Perché la televisione italiana, le trasmissioni televisive in Italia funzionano esattamente come in Iran, come nella Corea del Nord, come nelle dittature. Non vengono fatte domande scomode al ministro Tajani perché il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è totalmente corrotto, come nelle dittature. Adesso ascoltiamo questa dichiarazione baldanzosa del ministro Tajani, che tutto sembra tranne che una dichiarazione di pace. Infatti ai microfoni di Radio 24 il ministro Tajani ha detto, con la missione in Mar Rosso ci sarà una difesa forte, vigile e armata. Non andiamo là nel Mar Rosso per fare bella presenza. Nessuno in televisione riporta questa dichiarazione ufficiale degliuti. Prestate la massima attenzione perché adesso inizia la seconda parte del video in cui documenterò con una quantità di documenti sempre più copiosa la mia tesi. Nessuno in televisione riporta questa dichiarazione ufficiale degliuti. Ribadiamo i nostri sforzi per bloccare qualsiasi nave diretta verso Israele finché non fermerà la sua aggressione a Gaza. Gliuti non stanno compiendo alcuna azione terroristica, stanno cercando di opporsi al genocidio a Gaza, cosa che l'Italia non sta facendo, cosa che l'Unione Europea non sta facendo. Gliuti sì, gliuti sparano i missili soltanto, soltanto contro le navi americane e contro le navi israeliane per protestare, per opporsi al genocidio a Gaza. Sparano soltanto sulle navi americane e sulle navi israeliane o sulle navi che portano aiuti a Israele. Gliuti cesseranno il lancio dei missili nel Mar Rosso quando Israele cesserà di lanciare i missili contro Gaza. Vi prego di prestare la massima attenzione a questo brano perché aiuta a comprendere la corruzione totale del sistema dell'informazione in Italia. Nessuno spiega in televisione che gliuti cesseranno il lancio dei missili nel Mar Rosso quando Israele cesserà di lanciare i missili contro Gaza. Quindi, caro ministro Tajani, la crisi nel Mar Rosso non si risolve bombardandolo Yemen, ma ponendo fine al genocidio di Gaza, dove Israele ha massacrato 25.000 civili. Caro ministro Tajani, se lei parteciperà a questa missione militare, se gli Stati Uniti e l'Inghilterra continueranno a bombardare lo Yemen, lei non avrà la pace nel Mar Rosso, esattamente come è successo in Ucraina, lei avrà altra guerra. Perché questa guerra nel Mar Rosso, in cui l'Italia entra, è causata, spiegazioni basate su unnessi di causa-effetto, perché c'è un genocidio a Gaza, caro ministro Tajani. Quindi se lei vuole risolvere la crisi nel Mar Rosso, lei deve intervenire su Israele affinché Israele la smetta di lavarsi le mani nel sangue dei bambini palestinesi. Non è difficile da capire, ministro Tajani. È facile. La crisi nel Mar Rosso non si risolve bombardandolo Yemen, ma ponendo fine al genocidio a Gaza, dove Israele ha massacrato 25.000 civili. La missione dell'Italia è una missione contro un gruppo politico musulmano, Yuti, che sta urlando contro il massacro dei bambini palestinesi. Ho terminato l'articolo, inizia adesso la seconda parte del video, in cui voglio spiegarvi come funzioni lo stretto di Hormuz, perché quello che il ministro Tajani ha in mente, questo è quello che dice, di estendere la missione occidentale, una guida americana già esistente nello stretto di Hormuz, anche allo stretto di Babel Mandeb, cioè sostanzialmente la missione del Golfo Persico al Golfo di Aden. Ora, per esemplificare tutto e per aiutarvi a memorizzare questi concetti che mi rendo conto sono numerosi e complessi, il modo migliore, come dire, dal punto di vista didattico di procedere è questo. Dovete associare lo stretto di Hormuz al Golfo Persico e lo stretto di Babel Mandeb al Golfo di Aden. Che cos'è lo stretto di Hormuz? Lo stretto di Hormuz è uno stretto importantissimo perché è il passaggio obbligato per entrare e per uscire nel Golfo Persico e attraverso il Golfo di Hormuz transita un quinto del fabbisogno mondiale di petrolio. Non a caso nello stretto di Hormuz ci sono le navi da guerra americane e non soltanto. Per quale motivo? Seguitemi con la massima attenzione. Per poter comprendere come funzioni lo stretto di Hormuz e perché ci sia questa crisi così grande in quella parte del Medio Oriente, una delle ragioni principali, la ragione più importante è la seguente. Ora io farò l'esempio più semplice del mondo perché con mio grandissimo onore so che questo canale è seguito da tanti ragazzi, da tante persone che non sono esperte di politica internazionale e che, lo ripeto, con mio grandissimo onore si sono avvicinati allo studio, alla comprensione, alla riflessione sulla politica internazionale grazie a questo canale YouTube o altri miei interventi in televisione. Quindi sarò semplicissimo. Per poter comprendere come funzioni lo stretto di Hormuz e quindi una delle principali dadici della crisi in Medio Oriente e delle crisi in Medio Oriente dovete immaginare una strada a Roma. Immaginate la Tuscolana. Com'è fatta la Tuscolana Roma, come tantissime altre strade in Italia. Ci sono due corsie separate da una linea bianca. Alcune macchine viaggiano in una direzione, cioè in una careggiata, e in una corsia e altre macchine viaggiano nella direzione opposta, nell'altra corsia. In mezzo una linea bianca divisoria. Ebbene, lo stretto di Hormuz, le acque dello stretto di Hormuz funzionano allo stesso modo. Sono divise. Da una parte ci sono le acque dell'Iran, dall'altra ci sono le acque dell'Oman. Le acque dell'Oman sono larghe circa, se ricordo bene, 3,7 chilometri. 3,9 chilometri, 3,7 chilometri mi sembra. Controllate perché parlo a braccio, ma queste sono grossomodo le dimensioni. E poi accanto ci sono le acque dell'Iran. Ovviamente le acque del Golfo Persico non possono essere divise con una linea bianca, come una strada, ma il concetto è lo stesso. Le acque dell'Oman, in cui transitano le navi occidentali, le navi americane, sono a ridosso delle acque dell'Iran. Con un però. E qual è? È che l'Occidente, con il massimo della violenza, con il massimo del sopruso, con il massimo della prepotenza, hanno stabilito che fondamentalmente nessuno possa passare attraverso le acque dell'Iran, perché l'Iran è colpito da sanzioni. Inoltre, l'Occidente stabilisce che l'Iran non possa utilizzare quelle acque per poter commerciare il proprio petrolio. Ad esempio, se una nave lascia lo stretto di Hormuz per dirigersi in Siria con il petrolio dell'Iran, le navi inglesi, questo è successo nel 2019, si arrogano il diritto di fermare e sequestrare le navi che caricano il petrolio dell'Iran. Questo che cosa significa? Significa che l'Occidente ha letteralmente affamato 87 milioni di persone, perché l'Iran ha una grande popolazione, una popolazione enorme. Considerate che l'Italia ha circa, non so, 60-61 milioni di abitanti, in grosso modo, scusate se il dato non è preciso, ma più o meno i numeri sono questi. Mentre l'Iran ha 87 milioni di abitanti ridotti alla fame a causa delle sanzioni occidentali. E perché l'Iran viene colpito dalle sanzioni occidentali? Perché l'Iran non è un governo sottomesso all'Occidente. Questa è la situazione nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico, causa di enormi tensioni con l'Iran. L'Iran sostiene gli Uti. Quando l'Italia entra in guerra nel Mar Rosso contro gli Uti, sta entrando in un blocco. E come è composto questo blocco? Da una parte ci sono gli Stati Uniti, l'Inghilterra, l'Italia e altri paesi occidentali. Dall'altra c'è l'Iran e ci sono gli Uti. Quindi l'Italia, con questa missione militare, sta entrando in una guerra nel Mar Rosso, all'interno del più ampio conflitto israelo-palestinese che coinvolge anche Didan, che è il grande sponsor di Hezbollah e di Hamas, in un momento ipertragico. Quando i corrottissimi media italiani rappresentano, ritraggono la missione del governo Meloni nel Mar Rosso come una missione pacifica o addirittura neutrale, ritraggono in questo modo i fatti perché sono dei grandissimi corrotti. Sono dei corrotti la cui funzione fondamentale, la funzione fondamentale dei principali quotidiani italiani, delle trasmissioni televisive, delle trasmissioni radiofoniche, è creare consensi intorno alle politiche criminali del blocco occidentale in Palestina e in Ucraina. Che cos'altro vorrei dirvi? Credo di avere detto quasi tutto, scusate che mi faccio una breve pausa di riflessione perché andando a braccio ho paura di avere dimenticato qualcosa, ma in sostanza il punto è questo. Ecco, la conclusione che vorrei fare è, ho detto mille volte che la qualità del dibattito pubblico sulla politica internazionale non si innalza attaccando le persone sul piano personale, quindi siccome ho detto delle cose molto critiche nei confronti del ministro Tagliani, vorrei bilanciare dicendo anche delle cose molto gentili, e cioè che il ministro Tagliani è una persona che io ho sempre stimato molto, è una persona che merita il massimo rispetto per una serie di ragioni, non ultima, perché il ministro Tagliani è un esempio di rispetto, di tolleranza e di moderazione, un esempio di rispetto verso tutti. Il ministro Tagliani, a differenza di tanti altri politici, non ha mai offeso nessuno, non ha mai insultato nessuno, non ha mai attaccato il movimento pacifista, non ha mai detto che i critici delle politiche espansive della Nata in Ucraina erano putiniani, corrotti al servizio del Cremlino, quindi mi auguro che questo video ipercritico nei confronti di Tagliani non venga frainteso, non è un video contro la persona che, lo ripeto, merita il massimo rispetto, il ministro Tagliani merita il massimo rispetto a un gran signore, un esempio di moderazione, di tolleranza e di rispetto verso il prossimo. Questa è una critica politica al governo Meloni e in particolare è una critica corrosiva nei confronti delle politiche del ministro Tagliani nel Mar Rosso e nei confronti dei corrottissimi media italiani. Ci tengo anche a precisare che, a mio giudizio, il ministro Tagliani sta facendo correttamente il proprio lavoro, perché i ministri vengono pagati anche per mentire, per dire menzogne, come il ministro Tagliani sta facendo, perché quando Tagliani dice che l'Italia va in pace nel Mar Rosso sta chiaramente mentendo, è una menzogna, ma io ammiro Tagliani perché dice queste menzogne, perché dice queste menzogne perché dal suo punto di vista sono utili a tutelare l'interesse nazionale dell'Italia, la sicurezza dell'Italia, perché chiaramente se Tagliani vi raccontasse le cose come stanno, come faccio io, ci sarebbero dei rischi molto grandi, perché vi sto spiegando che l'Italia entra in guerra contro gli UTI, anche contro l'Iran, entra nel conflitto israelo-palestinese a fianco di Israele e contro i palestinesi. Quindi Tagliani chiaramente non può dirvi tutto questo. Quindi io rispetto Tagliani, secondo me Tagliani è un ottimo ministro degli esteri proprio perché è un grande bugiardo, cioè un abilissimo bugiardo che mente per difendere gli interessi del proprio paese. Secondo me Tagliani non sta difendendo gli interessi dell'Italia, ma sono sicuro, sono convinto che operi in buona fede, cioè operi convinto di difendere gli interessi nazionali dell'Italia che invece secondo me sta deturpando completamente. In realtà la mia critica è durissima nei confronti dei media, nei confronti di coloro che intervissano il ministro Tagliani. Questo ecco per chiarire il punto. Mai odio nei confronti di nessuno, tantomeno nei confronti del ministro Tagliani, che merita invece soltanto rispetto e buona educazione, che è la stessa buona educazione e lo stesso rispetto che Tagliani ha sempre avuto verso tutti. Vi ringrazio molto di avere seguito questo canale e ricordate, la qualità del dibattito pubblico in Italia sulla politica internazionale non si innalza attaccando le persone sul piano personale. Grazie e a presto.